Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qua per farvi vedere la mia workout routine estiva perché vi ho fatto già una workout routine che tra l'altro vi lascio nella i e ho visto che vi è piaciuta tanto perciò ho deciso di fare la versione estiva, siccome durante la quarantena mi allenavo molto di più mentre ora mi alleno un po' in modo diverso e infatti durante la quarantena mi allenavo quasi tutti i giorni oppure un giorno se un giorno no e invece ora faccio tipo una o due volte alla settimana perché insomma siamo d'estate e quindi fa anche più caldo e viene meno voglia di allenarsi però comunque due volte alla settimana ci sta e scusatemi se questa domenica non è uscito il video ma sono stata due settimane al mare e quindi non sono riuscita a programmarne così tanti diciamo però questo video uscirà mercoledì e poi domenica ne uscirà un altro prima di lasciarvi alla mia workout routine come sempre iscrivetevi al canale se vi va lasciato un like e andatemi a seguire sui miei social che vi linko sempre nell'info box e niente un bacione allora mi sono già cambiata per andare a fare ginnastica e indosso questo top qua di Dezenis e questi pantaloncini qua che avete già visto in alcuni miei video sicuro e allora come prima cosa vado a correre sul tappeto per circa 20 minuti mentre ascolto un po' di musica e poi dopo faccio ginnastica sul tappeto con i video al computer di Pamela oppure Chloe comunque dopo vedrete e niente ginnastica la faccio appunto o sopra se mi ricordo di accendere prima l'aria condizionata altrimenti in sala perché d'estate sennò sopra fa troppo troppo caldo ok allora ho finito di correre vado a bere un po' d'acqua e poi vado a fare un'altra ginnastica sono morta, sono tutta bagnata se non avete il tappeto a casa potete comunque fare un po' di cardio magari che comunque ha un po' la stessa funzione diciamo e niente ora prendo il computer per fare l'allenamento ecco qua ho preparato, ho messo il tappetino con l'asciugamano sopra per il sudore qua in sala e ora andrò a scegliere gli allenamenti da fare ovviamente io gli allenamenti li cambio più o meno tutte le volte però faccio circa mezz'ora di allenamento un po' tutto il corpo cerco di fare e solitamente quelli che utilizzo di più in questo momento sono quelli di Pamela, lei, orai, non so per prima cosa andrò a fare questo allenamento qui per la parte sopra del corpo appunto e niente ve lo linko nell'infobox dura solamente 10 minuti ok ora farò questo qua 15 minuti e anche di questo vi lascio il link nell'infobox ciao 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 allora ora farò questo allenamento qua 10 minuti di addominali e poi per finire io faccio sempre stretching e mi sono accorta che lo stretching che faccio io è praticamente uguale al suo video in realtà senza farlo apposta perché lo facevo già da una vita e niente quindi se volete fare uno stretching un po' completo fatto bene vi lascio anche il link di questo video qua nell'infobox e sì insomma aiuto sono morta però faccio solo più questo e poi vado a farmi la doccia ho finito ginnastica perciò ora prendo un po' d'acqua e della frutta perché ho troppa fame spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando consigliatemi sempre nei commenti che video vorresti vedere sul mio canale e niente a presto ciao 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 ciao